ciao ragazze e benvenute a questa nuova puntata di facile e veloce opinioni e per ora ho veramente tante cose da dire infatti ho già fatto un video precedentemente ma ora diciamo che mi sto diventando esperta nel montaggio questa volta è un video haul molto mini perché sono stata di recente alla profumeria limoni volevo trovare il la collezione bohemia and glam della debora ancora non ho trovato i rossetti sono in acquisto online dalle profumerie douglas però non l'ho trovata pur essendoci un intero stand debora non l'ho trovata e però ho trovato uno stand della zao una marca bio dao e sense of nature e sostanzialmente mi ha molto catturato sia per i colori sia per l'effetto punto idratante sia per l'effetto idratante che appunto ha sulle labbra questo è il rossetto aspettate le rouge eleve matt ed è una tonalità nude che tende più che altro sul rosa che con un trucco importante diciamo che degli occhi sta benissimo e io lo indosso è veramente fa un bellissimo effetto soprattutto con questo trucco azzurro è un po rosa barbie ma d'altronde era quello che volevo e soprattutto è idratante e lascia questa questa pellicola che veramente dura dura per ore dopodiché ho comprato questo mascara perché mi sta finendo il mio e sorpresa sorpresa l'odore non mi aveva molto catturato mentre il rossetto aveva un odore burro cacaoso molto che si sente che comunque ha degli oli questo non faceva un odore che mi faceva impazzire però mi ha separato le ciglia e me le allungate senza a fare l'effetto appiccicato cioè veramente le volumizza le separa cioè una cosa che sicuramente lo ricomprerò e questo è stato il mio haul perché i costi sono ovviamente tra i prodotti bio leggermente più alti diciamo alti perché diciamo il rossetto soltanto dovrebbe costare allora il fondotinta costava quando mi sono informata sulle 37 euro il che è un prezzo abbastanza alto questo e questo sono costate credo sulle 15 17 euro l'uno il che sono prezzi abbastanza alti andatevi informare il sito della dao e però sono dei prodotti veramente di ottima qualità io mi mi ci trovo benissimo sicuramente i prossimi mesi quando mi finisce fondotinta comprerò il loro fondotinta perché almeno il il loro fondotinta perché sembra una trapanese perché comunque è ottimo e ragazze io questa marca la promuovo appieno devo provare un po tutti i prodotti però è veramente cioè se compri i trucchi ogni tanto ti durano sono biologici non fanno allergia e insomma ai suoi pregi e con questo con questo ragazze ho terminato la mia ol perché è stata come vedete brevissima un bacione tutte da mano e tutto facile e veloce opinioni